Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora un piccolissimo video di acquisti, ho fatto un po' di acquisti perché domani parto per qualche giorno di vacanza, vado al tubino e mi servivano un po' di cosine visto che non mi piace mai iniziare a usare una cosa senza mostrarla, mi sono presa una mezz'oretta prima di preparare la valigia che mi aspetta là dietro per registrare questo video, poi lo caricherò dopo non so se riesco a fare prima di partire anche cosa c'è nel mio beauty più la bustina dei liquidi perché so, io almeno per come sono fatta io, ogni volta che devo partire, specialmente se devo portarmi i liquidi mi vado guardando tutti i video di come incastrano bene le cose e a mia volta cerco di incastrare quindi come io prendo spunto dagli altri, probabilmente mi piacerebbe dare una mano a chi non lo riesce a fare quindi ho comprato un po' di cosine, alcune mi serviranno per la vacanza e altre invece no e poi inizierò a usare dopo come dicevo il video beauty, non so se lo riesco a registrare subito dopo questo quando ho fatto anche il beauty, anche se la vedo dura perché sono le 5.20 devo ancora decidere cosa mi voglio portare, che tipo di trucco mi voglio portare organizzare i fracconcinini, fare la valigia, devo farmi sciampo e doccia quindi non credo di riuscire a girare prima di partire, se riesco quando torno prima di smontare il tutto lo faccio prima cosa di cui voglio parlare sono gli acquisti che ho fatto da OBS allora da OBS fuori non per il viaggio ho preso la lima, se faccio della Essence era un bel po' che non la compravo e mi è mancato tantissimo questa posta Essence 2,49€ poi della Omnia ho preso dell'argento e viso, eco biologico e tratante e equilibrante viso e occhi, compatibilità oculare testata all'aloe vera gel d'agricoltura biologica certificato il CEA0 non contiene siliconi, parabeni, oli minerali, glicole, propilenico non so cosa sia e da 200ml io ho un contenitore con pompettina appena finisco il video lo verserò in un piccolo contenitore per portarmi in vacanza questo l'ho pagato 5,99€ oggi sono passata anche da Idea Bellezza e da Idea Bellezza costava 5,99€ quindi ho fatto benissimo a prenderlo alle OBS e infine sempre per la vacanza ho preso queste salviette non salviette, salviette struccanti della Roberts all'acqua di rose, viso, occhi e labbra 90% ingredienti di origine naturale acqua distillata di rose 2 estratti naturali di 3 rose senza alcol opto-optalmo logicamente testate sono 7 pezzi se non erro dove avevo letto? si, 7 salviettine io sarò fuori 4 giorni quindi va bene così e queste le ho pagate 1,69€ cercavo quelle di Essence ma non le ho trovate quindi tra le volte mi sono dovuta accontentare poi continuando torno subito ecchi me gli ultimi acquisti sono qua dentro questa mattina sono passata da Idea Bellezza che ho speso un'altra cosa che non è per la vacanza però mi serviva dell'Emanuela Biffoli il più o meno per la cipria perché quello che ho è troppo grande per la confezione di cipria della Mac ve l'ho fatta vedere nell'ultimo video recensione magari vi lascio giù nell'info box il link questo l'ho pagato 1,50€ non credo di potermelo portare in vacanza perché se lo metto a lavare ora non so quanto tempo in quanto tempo si asciughi quindi evito è un bel pennellone poi da un negozietto che rivende prodotti sia per le le sediste barocchiere eccetera non mi ricordo come si chiama Cherry Glow forse sì ho trovato questi ricambi per piegaciglia della Peggy Seggio sono 5 una mia compagna di pallavolo lavora lì me ne ha portati questi li ho pagati 1,50€ io ho un piegaciglia comprato tanti anni fa da Idea Bellezza se ritrovo la recensione ve la lascio ormai c'erano due gommini ormai anche il secondo era andato nel senso che il primo l'ho utilizzato per un paio d'anni non si era fatto niente poi ovviamente l'ho cambiato il secondo è stato dentro al piegaciglia in posizione normale forse per un annetto e ora sono due anni che l'ho girato al contrario ogni volta che lo uso ho paura di spaccarmi le ciglia le ultime cose che ho comprato sono due leva smalto uno della seta blu l'altro del dolce sguardi questo è seta blu e quello piccolino da oddio 75 ml leva smalto nutriente all'olio di Ogong è un made in Italy non mi ricordo se questo è con o senza acetone a base di acetone questo non l'ho mai provato l'ho pagato un euro questo è invece il mio classico solvente della dolce sguardi profumato profumato sempre con acetone se di questo vi ho già fatto l'ecensione lo lascerò comunque giù nell'info box ok questi sono i prodotti ultimi acquisti che ho fatto negli ultimi due o tre giorni ora scriverò la lista di questi prodotti metterò a salvare questo video e mi dispiace che sono venuta un pochino scura di volto ma qua ho la luce del balcone di fronte c'è qua della finestra ma mi sa che non riesce ad arrivare a me mi vedo scura vabbè non fa niente si mi avvicino comunque ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba